I lavori di stabilità sono di fondamentale importanza per le nostre giocatrici perché oltre a migliorare la performance, riducono il rischio di infortuni. La nostra idea è sempre quella di creare delle progressioni di lavoro che riportino le giocatrici ad assumere le posizioni che ci sono durante le partite, quindi in campo, con la destabilizzazione dovuta spesso dall'induzione di contatti. Quindi partiamo dalla posizione di quattro appoggi dove stabilizziamo l'addome, la schiena in linea, poi cominciamo a ridurre gli appoggi. Da quattro passiamo a tre, passiamo a due appoggi. Poi ci avviciniamo alla situazione di gioco andando a riprendere la posizione fondamentale, schiena in linea e anche qui stacco in appoggio. O stacchiamo addirittura due appoggi. O stacchiamo addirittura due appoggi. Dal lavoro statico si passa poi a un lavoro più dinamico che comincia a riprendere anche i movimenti di torsione che ritroveremo poi negli esercizi in piedi. E quindi sempre nella posizione di plank andiamo in torsione. Passiamo poi ai lavori di torsione applicati alle situazioni più reali di gioco, quindi con l'ausilio di un elastico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.